Però ad ora, a sostanziale, metà dello spoglio, più o meno, il quadro ci dice, e questo è il messaggio politico che voglio lanciare oggi, e poi passiamo ai numeri che ognuno interpreta come vuole, che la gente ci chiede di andare uniti, di stare insieme. E quindi quello che chiedo io da segretario della Lega alla coalizione è di fare uno sforzo, un passo avanti o un passo indietro, con 4-5 candidati non si va da nessuna parte, non c'è nessuno che svetta e nessuno che non esiste. La stragrande maggioranza delle persone che sono venute in gazebo ci chiedono, per vincere andiamo uniti, non potete dividervi su 3, 4, 5 candidati come è oggi. Io leggevo qualche ricostruzione in base alla quale sarei io che sto mettendo in difficoltà il centro-destra, è la Lega che tiene più di altri, senza ipocrisia, a tenere unito il centro-destra. Quindi così com'è, oggi il centro-destra perde, perché uno può prendere più o meno voti di quell'altro, ma oggi significa fare il più grande regalo che si possa fare a Renzi. Quindi in base ai dati che vi vado a dire, io chiedo a tutte le parti in causa di fermarsi, un attimo, tanto Renzi ci fa votare a metà giugno o a metà luglio, fra un po', di fermarsi un attimo, di ragionare, vista la partecipazione all'iniziativa di una sola forza politica, se non sia il caso, vista l'eccezionalità del Comune di Roma, e visto come l'amministrazione uscente ha ridotto Roma, di coinvolgere tutti i cittadini romani che si identificano nel centro-destra in una giornata di partecipazione e di scelta popolare, perché io non pretendo che quello che esca del gazebo di noi con Salvini sia ovviamente scientificamente provato, però la cosa certa è che 15.000 persone sono uscite di casa e ci hanno detto fate questo con queste persone. Quindi nessuno ha stravinto e nessuno ha straperso. Io l'ho detto, ci sono anche tanti voti per Bertolaso, cosa che io ascolto e raccolgo quello che c'è.